Quindi questo è solo l'inizio di un processo in corso di sviluppo di obiettivi raggiungibili a scalare dal 2024, come hanno già accennato i nostri relatori. Ci saranno sviluppi di future schede come quella dei giardini storici e dello spazio culturale. Quest'ultima volta stabilire le relazioni esistenti anche temporali di beni insistenti in un medesimo luogo e quello delle relazioni mi sembra di capire che sia proprio stato uno dei leitmotiv degli sviluppi che avrà il catalogo e sono estremamente importanti. Per cui gli aspetti gestionali di Samira consentiranno all'operatore museale il controllo e la tracciabilità delle operazioni funzionali necessarie ad ogni bene culturale e testimoniale. Questo è il nostro obiettivo, consentendo di archiviare, elaborare e condividere i processi di attività e i dati tramite essa, comunicare e pianificare migliorando la relazione con gli utenti interni ed esterni e contribuendo a creare modelli operativi e gestionali più efficaci ed efficienti in relazione con i servizi pertinenti e nuove organizzazioni interessate come per esempio le comunità scientifiche. Cristina Ambrosini per fortuna è restata con noi fino alla fine, quindi prima di dare spazio alle domande chiederei a lei di chiudere. Grazie. Grazie Claudia, ma direi che dobbiamo utilizzare al meglio queste chicche di confronto e di lavoro, quindi io credo che la presentazione sia stata sicuramente sintetica, ma che abbia dato l'idea degli sviluppi e delle modifiche. Lascerei subito la parola a chi vuole intervenire per domande, chiarimenti, certamente. Ci sono mani alzate? Qualcuno che vuole avere un approfondimento da Marco Ranieri, è un'occasione straordinaria? Nel frattempo aggiungo quel discorso che facevamo prima, cioè che abbiamo già iniziato paradossalmente consegnando questa versione, noi siamo già oltre, ma come Regione Emilia-Romagna abbiamo già fatto un confronto per incominciare a identificare, anche sempre in base alle richieste pervenute, quali sono gli elementi che si andranno ad aggiungere. Abbiamo parlato delle nuove entità in gestione, stiamo valutando anche la possibilità di mettere facility report, quindi aggiungere elementi che possono permettere la gestione, oltre che catalografica, della movimentazione, il cruscotto per poter permettere a un catalogatore di avere un riepilogo della sua situazione, quindi sono cose su cui stiamo congetturando in questo momento con la Regione, sempre con l'obiettivo, e anche un maggiore spazio, un maggiore impatto visivo per le immagini. Quindi vogliamo rivederci tra qualche mese con una nuova versione che faccia sembrare queste cose di oggi ancora meno e andare ancora oltre, insomma, quindi questo sicuramente. Aggiungo una cosa io a questo punto, scusate, visto che non vedo mani alzate, è un solo anticipazione perché tra i partecipanti c'è qualcuno che è già ovviamente un utente della piattaforma Samira, vi anticipo, però senza darvi ancora una data, che organizzeremo un po' più avanti, probabilmente proprio una sessione un pochino più formativa all'uso della piattaforma, perché oggi, come è già stato detto, era più informativa sui nuovi sviluppi e appunto lo stato dell'arte. E mentre per ovviamente aiutare e guidare, se mai appunto, i colleghi, gli operatori che già utilizzano la piattaforma, l'idea è proprio quella invece di dedicare, se mai, un momento proprio di presentazione appunto delle varie nuove, delle funzioni nuove, navigandolo insieme e quindi facendo un incontro un pochino più operativo, formativo. Ecco, quindi questa era solo un'anticipazione, vi terremo ovviamente aggiornati nel momento in cui riusciremo a organizzare il tutto. Grazie. Se non ci sono domande, io credo che il modo migliore sia appunto di invitare, ad utilizzare, a provare, a vedere se tutto quello che è stato presentato è effettivamente friendly e quindi direi che poi ci possono essere contatti con i tecnici, con Isabella che ha sempre raccolto e ha sempre convogliato le richieste e le ha appunto rivolte poi per una soluzione concreta insieme appunto a DM Cultura, senza appunto voler prendere troppo tempo all'interno dell'orario lavorativo di tutti noi. Quindi se siete d'accordo, io non vedendo, ecco qui vedo già anche in chat, che noi proveremo a utilizzarla con le nuove modifiche, attendiamo il prossimo incontro, perfetto. Io credo che appunto i nostri interlocutori siano proprio abituati sul campo a provare, a vedere e a misurarsi su questo. Isabella per noi è una garanzia, è veramente molto attenta, disponibile e anche capace di tenere la barra diritta per ottimizzare questi strumenti che sono fondamentali. Come vedete stiamo agendo a 360 gradi, fortunatamente partiamo da piattaforme di qualità e nello stesso tempo tutto quello che si sta introducendo nell'attività del settore, pensate appunto, facevo riferimento Claudio ai giardini storici, cimiteri, le case, abbiamo tanto patrimonio anche diffuso, a breve vedrete arriverà anche tutta una buona parte di patrimonio architettonico in esito alla ricostruzione del sisma e quindi che deve tornare ad essere conosciuto, conosciuto nella nuova vita anche a seguito dei restauri effettuati e fruito anche all'interno del nostro catalogo. Quindi è per questo che vogliamo ci trovare pronti a queste aperture con anche un miglioramento continuo a livello di operabilità della piattaforma. Ringraziamo quindi tutti e tutte e buon pomeriggio, buona continuazione nel lavoro di ciascuno di noi. Grazie a Claudia, Isabella, a Marco Ranieri, a Luca Morini. Bene, grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Buon pomeriggio. Ciao a tutti.